Un altro taglio del nastro importante per la città di Fano. È stata inaugurata infatti questa mattina, dopo il grande lavoro del murales realizzato dagli studenti fanesi, le 5 nuove terrazze che fiancheggeranno la lunga passeggiata dell'Isippo, offrendo ai fanesi, ma soprattutto ai turisti, una bella vista verso la nostra costa. A questi lavori seguiranno una serie di interventi, di investimenti nel porto, che porteranno valore economico e nuovi posti di lavoro. Quindi è una città che cresce, che si fa un look più bello e quindi con questa passeggiata, così con queste 5 terrazze che guardano verso il mare, sono anche un bel biglietto da visita per tutti coloro che vengono nella nostra città. Diversi invece i significati di questa opera, come ci racconta l'architetto Pierluigi Floris. Prende spunto da un'idea di una carena, di una nave che è attraccata su una banchina. Quindi c'è questa conformazione curva, con questi fasciami in legno, che sono soltanto dei richiami che creano delle finestre da cui poi si può vedere appunto il mare. Ed è appunto quest'idea che ha un sottofondo marino, nautico, che in qualche maniera viene ricordato nella forma dell'oggetto. L'altro elemento che ha un'idea forte di progetto è quella di questi pali in legno che delimitano e danno un ritmo alla passeggiata, che in qualche maniera ricordano gli alberi delle imbarcazioni che sono attraccati in una banchina di un porto. Grazie.